Castello Mediceo di Meleniano Una leggenda narra di un passaggio segreto. Una via sotterranea oggi dimenticata. Questa galleria avrebbe collegato il castello con la chiesa di San Giovanni. I Teses iniziano il primo sopralluogo alle ore 22, insieme ai ragazzi di IDP, indagatori del paranormale. Mentre IDP analizza le anomalie dell'ambiente tramite i loro rilevatori, i ragazzi dell'Associazione Speleoarcheologica Teses esplorano alcuni pozzi, una ghiacciaia ed un angusto cunicolo. Muoversi all'interno del cunicolo è difficile. La sua sezione è di soli 40 cm per 40, ma comunque ispezionabile. Il manufatto è in buona parte interrato e sembrerebbe trattarsi di un'opera idraulica per lo smaltimento delle acque verso l'interno del fossato. Occorre proseguire la ricerca. Teses al castello di Melegnano